Stanco dell'ennesimo pomeriggio passato dal primo mio figlio di fronte alla televisione e al computer, mi sono ripromesso l'indomani di andare in studio e capire quali potessero essere delle alternative da un punto di vista motorio per lui che gli permettessero di sfogarsi un pochettino. Devo dire che fortunatamente mi sono imbattuto in Rugby Tots in maniera all'inizio abbastanza accidentale, fortunatamente sono entrato a far parte di questa famiglia, da lì ho avuto la possibilità di partire, i primi corsi sono partiti a San Donà, poi abbiamo attivato dei corsi a Treviso e il livello, i numeri che abbiamo acquisito nel corso degli anni sono andati crescendo ed aumentando. Devo dire che io sono assolutamente innamorato di Rugby Tots, sono innamorato della passione che quotidianamente vedo nei bambini, sono innamorato del divertimento che loro manifestano durante ogni lezione, sono innamorato di quelli che sono i progressi che gradualmente, io faccio anche il coach, che gradualmente riscontro e percepisco durante la crescita. non solo dei miglioramenti da un punto di vista motorio, quindi agilità, coordinazione, equilibrio e quant'altro, ma sono dei miglioramenti anche da un punto di vista sociale. Per la prima volta loro acquisiscono un concetto di squadra, lo fanno proprio, è fondamentale il momento conclusivo della lezione in cui ci sediamo tutti attorno e io distribuisco le medaglie, ma vedo nei loro occhi anche il divertimento nel fare il tifo e nell'incitare il compagno che riceve la medaglia, è assolutamente fondamentale per una crescita della fiducia e dell'autostima e per cui non c'è assolutamente un aspetto, non riesco a pensare ad un aspetto negativo di Rugby Tots, è veramente una trovata rivoluzionaria e lo consiglio a tutti quanti.